Sono inescrivibile perché è già tipo il terzo anno che gareggio qui, sono sempre arrivata o seconda o terza, non sono mai riuscita a vincere, quindi sì, sono molto contenta del risultato. Sì, molto, anche per tutti i miei amici a vedermi e quindi è una grande soddisfazione. Piccola, già montavo in Emilia Romagna, poi dopo ho cambiato, sono andata a montare in Toscana, quindi era anche un bel viaggio. Poi dopo ho iniziato a montare da Stefano Nogara in Veneto, il mio settore che è qui, e adesso abbiamo la serie del maneggio in Olanda, quindi adesso io monto sempre lì, però diciamo che faccio molte gare, quindi sto sempre in giro. Sono all'ultimo anno del liceo, faccio un linguistico quadriennale, quindi faccio cinque anni in quattro, quindi finisco prima e appunto nel 2025 ho la maturità. Il 6 novembre del 2007, quindi ho 17 anni, a Modena. Modena, la mia famiglia sta a Modena? Sì, sì, no, stiamo a Modena, adesso abbiamo appena preso una casa a Monaco, a Monte Carlo, però i miei genitori comunque sono di Roma, non sono mai stati... Tu a Roma? Roma, sì, no, ci vado spesso anche perché l'istruttore dell'aeronautica militare, quindi spesso andiamo anche la sede a Roma Centro, quindi sì. Grazie.